L'amministrazione comunale di Colle Corvino riconsegna alla comunità i bellissimi affreschi all'interno dell'ex convento di San Patrignano. I lavori hanno riguardato soprattutto la conservazione e il restauro degli apparati decorativi, oltre alla realizzazione di indagini scientifiche preliminari. Gli affreschi, datati 1640-1660, decorano tutte le pareti e rappresentano per maggior parte la vita di San Francesco e di Sant'Antonio di Padova. Un patrimonio storico-culturale del 1600 che appartiene non solo alla comunità, noi siamo orgogliosi di averlo sul nostro territorio, però è un prestigio per tutta la provincia e tutta la regione Abruzzo perché comunque, come dicevo prima, è un attrattore turistico, culturale per i ragazzi e di importanza notevole. La sorpresa maggiore per l'amministrazione comunale e per i restauratori l'ha riservata la sala una volta usata come mensa dai frati. Qui è tornata alla luce una riproduzione fedele all'ultima cena di Leonardo. Sotto la guida della soprintendenza. Nel ripulire quell'affresco che dicevamo prima, che è l'ultima cena di Gesù, ci siamo accorti, si sono accorti che sotto c'era un altro affresco e quindi con la soprintendenza, d'accordo con la soprintendenza, si sono fatti dei saggi e abbiamo scoperto che sotto tutta la parete era affrescata. Quindi è stata veramente una sorpresa bellissima perché quella è un affresco originale del 1600. La riapertura è avvenuta nel giorno della festa della Repubblica e questo per il sindaco Antonio Zaffiri vuole essere anche un gesto di speranza in più perché questa pandemia finisca e si possa finalmente cominciare a pensare a una ripartenza serena. La speranza dell'andare avanti, la speranza del continuare ad ogni costo e quindi questo è il segnale che noi vogliamo dare con questa riconsegna, questa riapertura proprio di continuità e di tornare alla normalità nel limite del possibile.